Si respira preoccupazione a Torre dei Passeri dove rischia di sparire la prima classe dell'unico istituto superiore della cittadina. A dare l'allarme è il sindaco di Torre dei Passeri, Piero Di Giulio. Una battaglia condivisa anche con altri sindaci del territorio. C'è il rischio che per l'anno scolastico 2019-2020 la prima classe dell'istituto tecnico-economico di Torre dei Passeri non si ricostituisca. O meglio, ci sono già 10 iscritti ma sembrerebbero essere pochi secondo l'ufficio scolastico provinciale. Pare non ci siano i numeri per riconoscere l'organico di diritto perché queste 10 iscrizioni, anche se ci sono due alunni certificati con disabilità grave, pare non siano sufficienti. Quindi l'appello mio personale e anche dei colleghi sintaci dell'intera area, i colleghi di Scafa, Lanno, Pesco Sanzonesco, Castiglione a Casauria, Cugnoli, Pietranico, Corvara e sicuramente ne dimentico qualcuno ma anche altri mi hanno chiamato oggi che abbiamo fatto il comunicato stampa e sono detti vicini a questa causa. Crediamo che questo sia un presidio perché appunto, come diceva lei, le scuole di Pescara esplodono, invece qui abbiamo queste, definirei anche eccellenze, questi istituti a servizio della comunità che sono una ricchezza per il nostro territorio, non solo comunale ma dell'intera Val Pescara. L'istituto tecnico economico di Torre dei Passeri c'è ormai da quasi 40 anni, quindi sarebbe una iattura che non si formasse questa classe prima. Quindi nostro l'appello al Presidente della provincia che è stato molto sensibile ma anche all'ufficio scolastico provinciale e regionale affinché ci venga incontro con delle deroghe se ci sono delle regole, però a noi non risulta perché l'intera area ha bisogno che questo istituto e questo corpo docente resti sul territorio. Grazie a tutti.